Questa coda è sincronizzata! E ora va spaccata! Perfetto! E loro sono Ivan, Cesar e Arzia! La famiglia Zoppis qui a Rainbow Magic Land ce ne abbiamo solo noi! Un camion che è sulle mani! Tutti, tutti! Sulle mani! Forza! Un camion che... Forza! Vola! Avete mai visto un camion che vola? Volete mai visto? E lui è il capitano!